I beni confiscati sono, pensate, quasi 20.000 in tutta Italia e quasi 4.000 solamente in Campania. Siamo nel ranking, la Campania è la terza regione d'Italia dopo Sicilia e Calabria. Dobbiamo dare delle risposte. Queste le parole del Vice Presidente della Camera, Sergio Costa, che oggi ha incontrato il Prefetto Claudio Palomba a Napoli per parlare della gestione dei beni confiscati e la criminalità organizzata. Due, in particolare, i casi presi in esame. Il primo è quello della masseria Antonio Sposido Ferraioli di Afragola, che con i suoi 12 ettari di terreni è il più grande dell'area metropolitana di Napoli. Vive un periodo di problemi a causa del PON Legalità che ancora non si è sviluppato definitivamente, di uno snodo autostradale che si vuole aprire spaccando a metà completamente il bene confiscato. Ci siamo confrontati, Sua Eccellenza ha ben vivo questa necessità e interverrà. Nel giro di un mese e mezzo dovremmo risolvere finalmente la vicenda e questo fa piacere a tutti, sia ai cittadini, sia a noi parlamentari, sia ovviamente al comune di Afragola. Sto cercando una mediazione in modo tale da salvaguardare le necessità di collegamento, le necessità comunali, ma anche le necessità di tutelare un bene confiscato che tra l'altro funziona e funziona bene. Il secondo caso di cui Costa ha parlato con Palumba è poi quello del bene confiscato alla criminalità affidato alla cooperativa ARS che si trova a Casalnuovo e che è dedicato ad Alberto Vallefuoco, Rosario Flaminio e Salvatore De Falco, tre giovani vittime innocenti di Camorra. Il tema di Casalnuovo, ricordate quel luogo particolare, i famosi 170 appartamenti, le mazzette, quindi una storia molto antipatica che c'era e se un bene restituito, abbiamo segnalato la necessità di poter agevolare anche le attività di educazione ambientale di nuovo, di unico spazio verde a Casalnuovo, di oltre due ettari che vive nel cuore di Casalnuovo e Sua Eccellenza il prefetto Palumba nuovamente si è messo a disposizione proponendosi di fare un incontro tecnico e di fare anche da collante tra istituzioni per favorire queste attività. Perché tutto questo? Perché la cosa importante è che questi sono tutti i beni che anche io conosco molto bene per la mia storia personale, che non vi sfugge ovviamente, molti di questi li ho vissuti da generale prima ancora di essere ministro e poi parlamentare. E' chiaro che adesso la vigoria parlamentare, la possibilità parlamentare, ti dà l'occasione per poter essere da collante tra il mondo parlamentare, il mondo politico che intercetta un bisogno, del mondo istituzionale, in questo caso la prefettura che può fare a sua volta da legame tra tutte le istituzioni e il territorio, il cittadino.